Famiglia, amore e amici, cosa metti al primo posto? Penso amici. Perché? Perché la famiglia comunque ci sarà sempre anche senza il tuo impegno, invece gli amici te li devi anche mantenere più che altro. Amici? Beh, perché comunque è importante sempre avere dei buoni rapporti con amici e non dedicarsi molto alla famiglia, tanto se la può cavare bene da sola. Forse gli amici, ma non lo so perché io l'amore ancora non l'ho vissuto, quindi devo decidere. Amici e famiglia, cioè insieme? Amici. Perché? Beh, perché la famiglia no, perché gli amici comunque sono le persone con cui passo più tempo, pure con magari la mia band e tutto quanto. Degli amici perché comunque è la risorsa più sicura e poi forse l'amore e la famiglia. Amici? Forse gli amici perché comunque se hai bisogno di qualcosa ci stanno sempre, cioè io non posso parlare delle cose con cui parlo con gli amici, con la mia famiglia. Amici. Perché? Perché comunque anche se succede qualcosa in famiglia gli amici si stanno sempre. La famiglia? Potrebbe succedere qualcosa comunque anche in famiglia, però gli amici si restano sempre. Hai un profilo Facebook? Sì, ho un profilo Facebook e me la cavo col computer. Quanti amici hai? Su Facebook 700 di più, cose del genere. Quante ore dedichi al giorno ai social network? Tante, troppe anzi. Ne potresti fare più o meno? Sì, sì, posso se voglio staccarmene. Quanti amici hai? Pochi. Quindi ne potresti fare benissimo o meno? Sì, sì. Sì, ce l'ho però non entro sul mio profilo da tre mesi e mezzo. E come mai? Perché non mi piace usarle e poi penso che sia per le persone sole. Quanti amici hai? Non me lo ricordo, tipo 141. Quanti amici hai? Non tanti. I miei amici non lo so, perché dato che guardo sempre al volo dal telefono non ci faccio mai caso. Sì, purtroppo sì. Perché purtroppo? No, perché veramente, scusate il termine, è una cavolata. Sì, sì, è solo una perdita di tempo. Ma tanto non ci navigo mai, solo per mantenermi in contatto con gli amici ogni tanto. Quanti amici hai? 700. Quante ore al giorno dedichi a Facebook? Dipende, un'oretta penso la sera. Ne potresti fare a meno? Cioè, non è che se me lo tolgono non vivo, però sì, cioè sì. 500-400. Quanto tempo dedichi al giorno a Facebook? Vabbè, comunque dal cellulare si è sempre collegati, sempre un po'. Secondo te a cosa serve Facebook? A stare in contatto. Ne potresti fare a meno adesso? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Grazie a tutti